Allora adesso passo la parola alla dottoressa Olga Pereladova che vi parlerà della protezione che è stata accordata a una di quelle sottospecie di Angul, il cervo di Bukhara e che ha dato dei risultati molto molto buoni, non in un anno o due ma con un bello sforzo. Mi scuso perché avrò bisogno della traduzione e non parlo italiano. Abbiamo già dato un'idea del cervo e di quello che vi racconterò. Come posso cambiare pagina? Grazie. Questa sottospecie era considerata una sottospecie del cervo particolarmente vulnerabile che si ritrova in diversi paesi. In realtà è una sottospecie molto specifica non solo dal punto di vista morfologico ma anche da quello fisiologico. Dall'inizio dei nostri lavori abbiamo notato delle caratteristiche molto specifiche. Siccome esistono tantissime varietà di cervo in Europa abbiamo voluto fare delle precise misurazioni. Come abbiamo capito la differenza. Dal punto di vista fisiologico nell'ambito di un'enorme quantità di cervi diciamo allo stato libero che manifestavano delle particolarità soprattutto per quanto riguarda le attività che richiedono particolari energie per esempio la pulizia dei mantello, la perdita del pelo e il periodo della riproduzione. Questi erano diversi rispetti alle altre specie comuni in Europa. Per il cervo bucari il periodo di riproduzione per esempio precede quello degli altri cervi europei è dovuto al fatto che vivono in un ambiente diverso e che quindi si riproducono prima della preparazione per il periodo invernale. Ma ci sono diverse caratteristiche come questa che sono uniche di questa sottospecie e questo ci ha suggerito che si trattasse di una sottospecie particolare molto prima che fossimo in grado di utilizzare le analisi genetiche. In realtà proprio dal 1972 che è stata la mia prima stagione sul campo sono andata a vivere da sola nelle foreste fluviali e abbiamo visto che esistevano popolazioni in diversi habitat e abbiamo potuto comparare popolazioni caratterizzate da diverse densità, caratterizzate da un diverso habitat e da diverse dinamiche di sviluppo della popolazione. avendo condotto delle ricerche presso diverse popolazioni abbiamo notato che le popolazioni invecchiavano dagli anni 70 già esistevano delle popolazioni naturali originali altre che erano state reintrodotte. Perché questo tipo di cervo già dagli anni 70 ha conosciuto un periodo, diciamo un collo di bottiglia durante il quale le popolazioni erano ridottissime. Abbiamo quindi proceduto a mappare le loro attività, i loro spostamenti. Una delle prime cose che abbiamo scoperto nel corso dei dieci anni di ricerca è che questa specie era caratterizzata da un comportamento molto particolare, per esempio il modo in cui spostavano il collo durante il periodo di lotta e anche il modo in cui formavano dei gruppi, dei branchi nel periodo della popolazione. Durante la riproduzione, chiedo scusa. Il comportamento e la formazione dei branchi era anche estremamente diverso. Quando non c'è un buon equilibrio numerico tra maschi e le femmine, per esempio non ci sarà una riproduzione. Ci sarà esclusivamente l'interazione tra i maschi. Questo è tipico soltanto del gruppo dei cervi di Bucara. Abbiamo poi scoperto che anche le dinamiche sono diverse tra diverse popolazioni. Abbiamo lavorato non soltanto con le popolazioni di cervo libera in natura, ma anche con gruppi branchi di cervi tenuti invece in zone recintate. Abbiamo così scoperto che durante diverse fasi di crescita della popolazione sono diverse anche i richiami che gli animali e la comunicazione tra gli animali. Abbiamo quindi cercato di condurre le nostre ricerche senza disturbare la popolazione. Abbiamo studiato la loro comunicazione e vedete che i versi, i richiami, hanno diverse manifestazioni. Le tre manifestazioni che è chiamato è un richiamo, un avviso dell'avvicinamento e il contatto. I grafici ci mostrano quali differenze esistono dentro la popolazione. Per quanto riguarda i livelli di crescita al momento di riproduzione. Abbiamo potuto anche osservarle visivamente. I grafici vi mostrano le frequenze normali dei richiami. Abbiamo potuto quindi capire, utilizzando delle tecniche statistiche, le differenze tra i vari tipi di richiamo senza dover disturbare i cervi. Abbiamo poi condotto delle analisi di tipo genetico e abbiamo a questo punto potuto concludere che il gruppo dei cervi di Bucara è un gruppo geneticamente distinto. Abbiamo partecipato quindi insieme alle persone che sono state menzionate da Sandro. Abbiamo potuto rielaborare una tassonomia più sistematica e vediamo che questo cervo appartiene a delle specie che hanno in comune sia delle forme europee che delle forme americane. quindi in realtà noi abbiamo potuto confermare quello che già 45 anni fa sospettavamo semplicemente dopo l'osservazione del loro comportamento. Quindi questa sottospecie particolarmente è una specie molto unica e abbiamo quindi potuto effettivamente salvare un gruppo estremamente particolare. Un gruppo che è endemico della zona meridionale, del centro meridionale dell'Asia, quindi Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan e Afghanistan. Era estinto in Afghanistan molto tempo fa ed era molto raro negli anni 60, particolarmente a causa della distruzione del loro habitat, particolarmente nelle foreste e soprattutto dei corsi d'acqua che sono ovviamente importanti per i cervi ma che venivano distolti e utilizzati per scopi agricoli. Quindi i cervi non avevano più il loro abitato nazionale e ovviamente il bracconaggio era un altro problema. Quindi il primo ciclo di restauro delle popolazioni ha avuto luogo in Tajikistan alla fine degli anni 90. come dicevo in molti abitati il cervi era proprio scomparso e nell'89 ne erano rimasti circa 900. Non eravamo indicazioni di popolazioni perché se hai veramente una dozzina di animali non puoi più neanche parlare di una popolazione. Abbiamo sviluppato quindi un programma che ho presentato a Roma nell'89 e la mia presentazione è stata poi pubblicata e questo ha portato allo sviluppo della pianificazione della convenzione di Bonn. Dopo il sgretolamento dell'Unione Sovietica c'erano soltanto 350 animali. Stiamo parlando di animali dispersi in centinaia e centinaia di migliaia di chilometri. Quindi uno stato quasi disperato ma con una ancora remota possibilità di ripopolarla. Una possibilità che era anche accesa dal fatto che esistevano dei punti residui di foresta pluviale. In certe aree ovviamente le possibilità erano praticamente zero perché per esempio ai confini con l'Afghanistan come potete immaginare la distruzione dell'habitat era quasi totale. Tutte le popolazioni che esistevano ancora sono mostrate qui nella carta e vivevano particolarmente vicino ad Amodalia. E il problema è che essendo tutte concentrate là erano anche particolarmente vulnerabili a eventuali patologie che fossero scatenate in quell'area. E questo ci ha quindi determinato e ci ha fatto capire che era necessario lavorare su diverse popolazioni non soltanto concentrarsi su una. era comunque un periodo particolarmente difficile la mancanza di cibo per i cervi era dettata dal fatto che l'habitat veniva distrutta anche per la situazione politica e sociale dei paesi negli anni 90. Non c'era proprio da mangiare per la popolazione venivano distrutte anche le foreste per poter far legna e così via. La nostra pianificazione riguardava tutta la rete ecologica dell'Asia centrale. Le zone marcate in rosso sono quelle dove era ancora possibile trovare dei cervi e poi vi indica anche le zone protette. C'erano dei corridoi ecologici che noi speravamo di poter espandere per poter aumentare la popolazione. Cosa abbiamo fatto? Voglio passare velocemente su queste in modo da vedere le fotografie. Queste erano delle zone protette alle quali abbiamo offerto un supporto di natura tecnica per garantire che gli sforzi di conservazione andassero a buon fine. Abbiamo iniziato con del personale i cui genitori erano magari dei bracconieri che usavano i cervi per potersi sfamare. Il loro ruolo era spesso anche quello di gestire una transizione generazionale e garantire per esempio che i genitori che andavano in campagna lo facessero senza portare il fucile. In realtà i nostri sforzi, quindi sebbene concentrati sul cervo di Bukhara, hanno poi riguardato la conservazione della fauna in senso lato. Anche l'Uzbekistan aveva chiaramente un problema di bracconaggio. Abbiamo creato delle squadre anti-bracconaggio. Ancora l'Uzbekistan dove abbiamo avviato un processo di reintroduzione e questi sono i gruppi che hanno fisicamente portato gli animali nel loro habitat. Il gruppo è cresciuto, gli animali erano tenuti in zone recintate e adesso abbiamo raggiunto un livello di circa 800 animali che è un livello assolutamente fantastico. E queste foto vi fanno vedere la zona del basso Azugistan, del delta della Mudaria. è una zona vastissima di foresta fluviale dove nell'800 viveva ancora la tigre. è un sistema composto da laghi connessi da ruscelli e vari corso d'acqua che naturalmente sono stati disturbati dai progetti di generazione di energia idroelettrica. Quindi tutto il sistema è stato riparato. Abbiamo cercato di riportare il livello delle acque al livello necessario. Abbiamo lavorato senza abbattere un singolo albero e siamo riusciti a far tornare le acque ai livelli giusti. perché prima i cervi che si avvicinavano per bere si incagliavano nel fango perché il livello dell'acqua era troppo basso e morivano così. Invece le altre foto vi fanno vedere cosa siamo riusciti a riparare e ancora il livello delle acque è rimasto al livello che abbiamo portato noi. E non soltanto il cervo ma moltissime specie anche di uccelli sono tornati quindi a questo ambiente. E veramente posso dire che siamo riusciti a ricostituire l'intero ecosistema di questa zona lacustra. Ancora immagini delle nostre collaborazioni, del supporto tecnico che abbiamo prestato. Qui il problema era invece quella della deforestazione illegale. Ancora qui abbiamo iniziato con un piccolo gruppo che però aveva un grosso supporto dal governo e che teneva gli animali recintati e poi li rilasciavano alla popolazione. La popolazione è stata tenuta sotto controllo dal 72. Il lavoro di protezione degli animali tramite recintazione è andato avanti per diversi anni. E questa tabella vi mostra il nostro monitoraggio, il conteggio degli animali nei diversi siti. Si tratta di siti piccoli e il nostro metodo di conteggio è sia una registrazione visuale degli animali liberi e siamo riusciti ad ottenere dei dati che si prestavano al confronto. Potete vedere quindi che siamo passati da poche centinaia a diverse migliaia. Siamo riusciti a far crescere il numero di animali in un fattore pari a 10. Quindi abbiamo non soltanto reintrodotto la specie là dove non c'era ma siamo riusciti anche a espandere la popolazione. Questa è la squadra di lavoro. Posso dire che certamente non ero sola. Certamente è anche una buona notizia che con la caduta dell'Unione Sovietica la nostra rete di contatti scientifici è rimasta comunque intatta. Quindi abbiamo potuto coinvolgere moltissime persone locali, abbiamo lavorato insieme nei diversi paesi e ogni anno abbiamo ottenuto l'approvazione da parte dei ministeri dei paesi del nostro lavoro. Nonostante i cambi di guardia dei vari governi abbiamo mantenuto questa continuità e abbiamo potuto anche firmare dei protocolli d'intesa con più di 70 ministeri perché questi paesi riconoscono di avere degli obblighi internazionali per quanto riguarda il mantenimento degli ecosistemi e delle specie minacciate. Abbiamo offerto un sommario del nostro lavoro scrivendo un manualetto metodologico che era inizialmente scritto in russo ma che adesso abbiamo potuto tradurre in inglese ed è disponibile nel nostro sito. Stiamo tra l'altro pianificando una nuova fase di lavoro e sulla falsa riga del lavoro che abbiamo condotto sul cervo pensiamo di trasferire queste competenze accumulate sulla tire. Possiamo che sia possibile non solo ma sia dovuto anche se si tratta a volte di manutenzione preventiva. Grazie.